In realtà il seminario di oggi è un seminario che fa il punto della situazione sulle moderne tecniche di disinfezione e sterilizzazione utilizzando l'aerosolizzazione. Ovviamente ci si muoverà sulla valutazione di evidenza facendo un'analisi di efficacia ed efficienza della metodologia utilizzata e delle possibili applicazioni. Per quanto ci riguarda come dipartimento ad attività integrata abbiamo ospitato questo seminario anche per promuovere un'attività di ricerca sulla sanificazione e sterilizzazione e per farne anche un'attività formativa per gli studenti e per gli operatori sanitari.